buongiorno a tutti recco è dietro le nostre spalle e abbiamo finito la via del sale però essendo qui come non fare altro cammino e arrivare magari a 100 chilometri che speravamo per questa uscita la giornata è fantastica e quindi oggi ubicheremo il nostro tempo al cammino lungo il parco di portofino sicuramente ci saranno delle vedute bellissime e approfitteremo per fare visita a luoghi particolari e caratteristici come saproposo e portofino promesso che oggi poche chiacchiere però tante belle immagini grazie a tutti 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 grazie a tutti